Grazie a tutti 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 Questa sera noi ospitiamo la mostra di Giuseppe Borghile Giuseppe Borghile è stato un valentissimo fotografo e le sue fotografie sono racconti per immagini, non sono solamente immagini, lui suggerisce sempre qualche cosa con quello che rappresenta e non si ferma solamente all'immagine. Per esempio c'è questa opera d'arte sicuramente che è l'autore di Michelangelo, di Michelangelo come la chiamano adesso, o di Chebara come andrebbe chiamata, dove lui c'è la restaurata a modo suo. Anche se ha fatto uno scendio, volevo suggerire che questo monumento ha bisogno di un restauro. Così come così sono tutte le altre fotografie che andrebbero lette proprio come suggerimenti o come racconti. Poi abbiamo il professore Alvarelli che come già vi siete risicolti, bisogna tenerlo a freno perché altrimenti stasera fino alle 10 non ce ne andiamo. Alvarelli è un intellettuale di primistico piano, tutti quanti voi già lo conoscete, però la sua passione lo ha portato ben oltre. Lui è diventato un antropologo, da tutte le ricerche che ha fatto è riuscito a tracciare gli usi e i costumi dell'isola Dischia. Anche quando sembra che si perda negli aneddoti, nelle facezie, in realtà sta raccontando la storia di quest'isola. Ed è una memoria storica che è diventata un luogo comune nel senso che è un sapere condiviso di tutti quanti. Ed è preziosissimo. È una storia che fortunatamente lui già ci ha regalato alcuni libri, ma che non deve essere assolutamente persa. E stasera, proprio perché la condividerà con tutti noi, noi lo ringraziamo. Sono io che ringrazio voi. Sono io che ringrazio voi. Sono io che ringrazio voi perché... E io ho già detto però... Una sedia? No, è perché c'è stato un televisore qua, allora bisogna girare... Non riesco a prendere le pagine. Ma forse una sedia. Comunque è possibile. Mi dicevo, sono io che ringrazio voi perché sono reduce dall'influenza. Io non reduce io, sono stato in mezzo a tanta gente influenzata, quindi temino di non farci. Mi sono tenuto un po' in disfarco e cercato di combattere. Ci sono riusciti. Poi per quanto riguarda queste feste, io mi dovesse esigenere, stasera mi è capitata una cosa simpaticissima, perché mi sono andato con qualcuno e ho detto, ma non è possibile, feste passate così. Non sono stato capace di venire un presente. A Ischiavone c'è una tante esposizioni, anche di Maria Lantoria Maschola e cose di... Chi mi ha risposto, ma non c'è bisogno di aprire i presenti. A Ischiavone, tu basta che fai un parri di cocò. Quella impresa che mi vende di Ischiavone. E i pastori stanno, tu quando l'ha... Giuseppe poi ti interessa, sapete, che fai a questo pastore? Tu basta tutto abbaccare, di fronte a San Giovanni Giuseppe, si è scritto la posta, pastori in movimento. Comunque vi chiedo scusa anche perché ho abbondato nel fornirvi immagini, immagini, immagini. I vagacaccia, immagini, perché le immagini secondo me sono frammenti di vita, frammenti del passato, che poi devono essere sfogliati con la simpatia, con, diciamo, anche con la nostalgia, con la fantasia, è perché ci dà la possibilità veramente di ricostruire un tempo che molte volte è soltanto compianto, anche perché privato di quei valori, di quelle tradizioni, di quel folklore che hanno caratterizzato un po' Ischia. Io sono ospite e qua sono arrivato quando avevo appena sei anni e mezzo e ho visto tante di quelle cose e tanti personaggi che mi sono rimasti indelebilmente nell'animo. Non ne dimentico nessuno. Poi ognuno ha una sua fisionomia, ognuno ha una sua caratteristica. Diciamo innanzitutto che sono arrivato qua quando la guerra era da poco finita. Pensate che Levi, per esempio, vedo anche le immagini di Levi, era stata fondata nel 39, pensate nel 39, ma cioè prima che iniziasse la seconda guerra mondiale, ma voi riflettete un momento di che cosa poteva essere Ischia all'indomale della guerra. Le comunicazioni erano latitanti, l'acqua era insufficiente, l'energia elettrica non bastava soddisfare per niente. Le comunicazioni in alto mare, la situazione igienica, anche stradale, era veramente pazzesca. Allora a un certo punto incominciò un lavoro, diciamo, certosino, che cominciava a partire praticamente sempre da Piazza Croce. Dici perché tu sei fissato con Piazza Croce? Ma perché quello era il mio regno. Io a Piazza Croce avevo la maggior parte degli amici che condividevano le mie esperienze, le mie delinquenze, veramente, perché mia madre, ve lo sapete tutti, per disperazione mi dovete mettere in seminario, perché io avevo le mie dipendenze, una banda di ragazzi che con me si dedicavano a furti, ruberie, sacchetti. Però alla sera poi facevamo, penevamo il barrierino. No, prima no. No, a Piazza Croce, varietà, accendavamo i rumini, raccontavamo le barzalette, io cantavo naturalmente, poi rubavamo farina, zucchero e poi sotto la scogliera facevamo le pizze, perché la nonna aveva messa a disposizione anche una tiela fria, insomma, così tutti quanti potevano mangiare, eccetera. Quindi voglio dire una vita piuttosto allegra e che spinza mia amata ancora rivolgerà ai provvedimenti. In ogni caso vi dicevo che diciamo i pionieri a quell'epoca e avviarono questo lavoro sono stati da una parte, secondo me, tedese, che ha una grandissima importanza e dall'altra parte lei. Da una parte tedese perché, eccolo là, era convinto che naturalmente soltanto valorizzando il turismo si sarebbe potuto risolvere il problema isolato, soprattutto per quanto attiene a una volontà diffusa. Perché la verità la situazione è veramente delizia. Pensate che io vestito da seminarista che andavo in mezzo al mercato e aiutavo tutti i giovani a raccogliere i fondi, passavo buona acqua a dire e facevamo anche un bel gruzzoletto. Poi c'era la mamma mia che mi aiutava nel senso che anche le lettere non guste, no? Vendeva frutto, ortaggi, eccetera. Per cui io mi riuscivo anche a fornire un pochettino a chi le avevano bisogno, castagni e pedi. Ce l'ho dito? La fine, su scelma, anche quella. Poi le carrupe, diciamo, erano mangiate di volontia. Voglio dire che il Comandatore Teresa aveva intuito quei... e anche il padre di Andrea Pagazzo, Giardino degli Aranci, che l'aveva criticato terribilmente, perché lui aveva dato ordine di risanare tutta la zona di via Francesco, come lo cuore, cioè toglierle le stalle, portarle in periferia, dapprima lo biticò, poi disse chi non l'avrà giù? Perché purtroppo soltanto così... Allora voi pensate, per esempio, agli investimenti per cercare di risanare gli amici, di sanare le strade, di costruire le strade, da cavo, tutti i vicoli, eccetera. Poi lui, con grande lucidanza, e questo potrebbe essere uno spunto per oggi, rappresentava nelle sedi opportune tutti i comuni dell'Isola. Non faceva sentire la santa la sua voce. Ed è questo che dovrebbe spingerci poco al cosiddetto comune unico, perché di cui l'importanza non è stata capita. Qua la cui importanza non è stata assolutamente capita. Tanto è vero che il fatto anche che a livello locale abbiano votato così poche persone, per me è stata veramente una lezione, diciamo, di scarsissima democrazia, veramente, da questo punto di vista. Il commentatore... Perché vi dico questo? Perché quando, per esempio, il commentatore tedesco voleva realizzare l'eliporto, per esempio, a casa Micciola, no? E aveva detto chiaramente la d'Italia si era opposta. Non vi dico, opposizione non finita, perché assolutamente non si doveva fare. Lui, rappresentando proprio tutti i comuni dell'isola, riuscì nel suo intento. Non solo. Poi invitò Silvio Gava ad interessarsi dei problemi dell'isola. E lui ottene 700.000 lire per ottenere poca viabilità, eccetera. E poi addirittura 1.700.000 per quanto riguarda gli investimenti, le case, eccetera, le abitazioni. Vi dico, e soprattutto per l'impianto idrico, il cui sbocco pochi è stato veramente straordinario, quando il 9 novembre 1958 fu posto la prima, diciamo, il primo cavo, il primo tubo che proveniente dalla terraferra. Io ricordo il vescovo Cici mi mandò a chiamare, disse, Nunzi, tu mi devi aiutare perché devi trovare qualche frase di Virgile che possa rappresentare quegli, e mi ricordo i primi versi del secondo libro delle Neide, e lui fu felicissimo e gli fece mettere sulla lapide che lui vendita gli schiavonti quando arriva all'acqua. Insomma, per lui fu una cosa veramente straordinaria. C'era Cici, voi sapete che Cici era un vescovo filosofo, si litigava con scoti, eccetera. Gli scontri erano a mano armata, con Malagò, cominciarono i primi scontri pure con Malagò. E' veramente... E' veramente... E' veramente molto... Vedete, Teresa si era circondata di persone le quali erano amanti del bene comune. Lo dobbiamo dire con la massima franchezza, queste persone le quali... Quando ho avuto l'onore di essere inclusa nel suo... No, dal 64 al 71 sono stato in amministrazione con lui. Io ho potuto veramente notare quanto facesse per il Paese. Infatti a me dava ampio mandato, fa questo, fa quello. E io ho potuto interessarmi anche a Lugasco, come diciamo soltanto in periodo dell'assessorato mio, di ordinare con l'uco cacciaputi, eccetera, di organizzare le spiagge, i parcheggi, no? Di interessarmi al piano regolatore, di dare certezza giuridica alle persone che lavoravano nelle termine comunali. E Giuseppe me lo ha potuto dare testimonianza, perché mi sono interessato tanto, con la riguardo il padre, perché non ero... Ma anche assicurato, insomma, non vi dico. E ho fatto tutte queste cose, presentavo gli artisti che arrivavano a Ischia, orsi, eccetera, dell'Avitalia, ma soprattutto mi interessava anche dal punto di vista sportivo. Infatti erano gli anni in cui noi ci interessavamo, è stata animata che la squadretta è in promozione, ma a me piangeva il cuore, e riuscivamo piano piano a portarla, no? Io facevo parte della dirigenza della squadra e abbiamo conosciuto personaggi veramente indimenticabili. Bastava ricordare soltanto quello che faceva Giannino Messina a Piazza Croce, eccetera, lui, Rocco Lombardi, Gambone, e tutta una serie di personaggi, Calestrini, Uba Uba Azzel. Io non posso mai dimenticare una mattina dovevamo presentare il teatro con Bosco. Io veramente lavoro a Malteano, Don Bosco, soltanto quando stavo in seminario sono durante le vacanze, durante le vacanze. Poi mi sono stato arrollato a titolo definitivo, grazie pure a Telese, che voglio che assolutamente, io non venissi meno. e infatti partecipavo attivamente alla cosa e ogni qualvolta c'era un iniziativo, quello lì, il commento del prese mi andava a chiamare. Pensate che, per dirvi come riusciva a stimolare la cultura, quella era capace alla serie di mandare una persona a casa vostra e vi diceva, guarda, io domani mattina alle 5 devo andare in stampa, tu mi devi scrivere una poesia, vedi che io me la mando a prendere alle 4. commentato, ma voi che dici? Alle 4 la poesia deve essere pronta. E io ricordo, mi mando avvicinare, mi amato, mi mando a prendere, ma che è che è questo? A Tuzzi, io mi dovevo entrare a Tà, a fare una poesia che poi fu pubblicata, che fu sul giornalino di Ischiel, che lui curava, e allora collaborava anche Monsignor Bono con lui, capito? Quello stimolo continuo. Diceva lui, quando cammina per i strati, lui camminava per i strati con il vigilo urbano e con l'assessore a fianco, sistematicamente, il vigito doveva stare su, andare all'altra, gli mandava nelle case, a controllare le situazioni, uno dopo l'altro. E non c'era per soli, problemi, eccetera, che non gli stessi alcuni, di cui non si interessassi, perché era qualcosa di veramente straordinario. Io lo devo dire, si deve rendere onore, per questo, è chiaro. Poi, sono state tante nemicizie politiche, perché naturalmente, venivo da Porti, anche se, avevo perso il mio padre, si guarda gli chiesti, fuori, mi metto a te, e parecchia ischia si sono risentita, perché i filari si dà, nella lista Nuzio Albanello, invece di metta, per esempio, a Salvatore Trani, che mi ha odiato, l'avvocato, da quel momento, perché un comitore uterese aveva preferito me, ma io non è che, non ce l'hai fatto niente, un comitore uterese, aveva insistito con me, e infatti, voleva che assolutamente, io mi interessassi, eccetera, e stava continuamente, volle che io collaborassi con lui, nello stendere, la definizione del turismo, che collaborassi con lui, nel fare l'opusculo, quando riguardava le terme. Insomma, sistematicamente, mi mandava anche, degli opuscoli a casa, da rivedere, da integrare, eccetera, eccetera, insomma, ho lavorato sempre, in questo senso, e ho cominciato, a interessarmi, diciamo, degli interessi, della collettività. Io vi dico, la verità, che i personaggi, però, che soprattutto, ho incontrati, ho incontrati, a Piazza Croce, sono quelli, che hanno segnato, definitivamente, la mia esistenza. Per quale motivo? Innanzitutto, perché erano personaggi, che erano molto attenti, associati, erano persone, le quali, avevano anche sensibilità, voi, non sapete, per esempio, Filippo e Montagnolo, per darvi un'idea, no? Quest'uomo, era uno che lavorava giù, alla spiaggia, così, ma aveva l'incarico, di ritirare il cibo, che rimaneva, superfluo, dal palazzo Leal. Voi non ci crederete, quello lì, dava da vivere, a tutta la spiaggia, portava da mangiare, a tutta la spiaggia, noi, io a volte, mi accorgo, pure se siamo stati crudeli, due come ragazzi, teniamo con me, domenica, un urbanese, buttavamo pietre, nella sua casa, attendendo addirittura, la vita dei figli, poi dicevo, ma come è possibile, essere così inconsciente, poi lo prendevamo in giro, dicevamo, io lanciavo la strofetta, Filippo e i puntaglioni, non d'era niente, tu cazzo, vuoi? eppure non potete immaginare, era tanto buono, che nulla ogni qualvolta, mi vedeva, te ne guardavi i figli dinti, vi ricordate, quelli del banco di Nau, ha un più bello figli dinti, ma la spottastano, la parola a me, allora io, queste cose, come si fa a dimenticare, è una continuazione, lui è veramente, una persona adorabile, a queste buddizie, posto è Margherita Cantanero, dove si andava a comprare, quello che si desiderava, di resta non mancava mai, lei dava anche i numeri, accompagnata Pasquale mia, che faceva il suo inserviente, eccetera, e io, c'era lei, c'era Filippo e Capifier, che contrastava continuamente con Peppetto, perché Peppetto, era il nostro allenatore, pensate che con me giocavano, Antonio Barile, Zambile, Dinone, era il fratello Vincenze, che poi ha giocato con me, anche degli Aragonesi, ha schiavato, voi pensate che Nerone, Nerone, mi odiava fino alla morte, perché stava vincendo il campionato con i crociati, ad un certo punto, mi manda a chiamare, a Ischia Poldo, dice tu devi giocare tu, e Vicenze Barile, dove giocare la squadra dei crociati, come si chiama, dei... i crociati vincevano il campionato, Casalauri, non aveva vinto una partita, tutto il campionato, giocavamo noi, arbitrava il padre di fermo, no? A un certo punto, vincevamo noi 4 a 3, ma mi ha detto, dove ho avuto rete in un rigore, non vi dì, Nerone, mi ha odiato, perché ha perso il campionato, a seguito di quella sconfitta, insomma, per lì, per questo raggio, proprio tutto d'un pezzo, sapete? Don Michele Battalano, Don Michele Battalano, veniva a casa mia, e dice, guarda, tu mi sei simpatico, io un giorno o l'altro, ti venderò qualche cosa, io sorpresissimo, allora diceva a mia madre, gli sfugguliando, e lui, non si è sposato, dice che ha perso la fidanzata di russi, fangere poche corte, Don Michele Bossi, allora potete mangiare, quando una mattina, è venuto Don Michele da me, e ha detto, guarda, io ho deciso, ma voglio venire a casa, poi mi riusciamo, non pensare a ungere le ruote, come avrei detto, insomma, Tannere creato, insomma, per i piccoli, voglio dirvi, non ci pensare, e naturalmente, ma almeno è in corso, perché quella casa, mi costa 250 milioni, e non vi caggia combinata, terreno, compra, cattro, in, butui, vi posso dire un segreto, non c'è stato mai un mese, che io non abbia pagato la rata, era un anno che mi ha la testa, forse, un dottore Brando, non se lo ricordo, un solo malatesto, mi aveva detto, non ci ricordate, lui stava in Libia, mi scriveva, ci ti raccomandi, i miei figli, ramocchi ai miei figli, eccetera, era di un'affettuosità unica, tante, insomma, e diceva a me, non dimenticare mai, di fare la rata con l'imbata, allora è Rembas, ricorda, sai perché? Perché si tu, loro non si possono rimanere nei confronti, i tuoi non, allora gli ha fatto, sembra, vi faccio vedere, nessuno ha mai potuto sapere, i quanti mi dava gli stipendi, perché il mio stipendio era sempre decurtato, dalla rata pensile, all'Embas, anche oggi, non mi sono mai tirati di dire, anche se oggi posso assicurare, è doloroso, perché si sono ottenuti, 8.480 euro, per di assicurazione sulla vita, si muore, questa volta, non si paga il numero di mia moglie, una volta l'assicurazione è al canto, ma ora 8.480, sinceramente si fanno sentire, su un mutuo, vi rendete conto, comunque, vi dico, Peppetto, Tor, Tor, quello lì, sputava il bagno a tutti qua, ognuno che passava all'improvviso, pum, sputava il bagno, e domenica, basso là, 7 metri, faccio un bidone, arriva a basciare, figlio, allenta, allenta il freno, Tor, con il sedere, coppa, all'acqua, tutti i barco, correvano, riuscirono a salvare la stessa, voi sapete, lì era paralizzato, braccia e gambe, una cosa, guarda, io uno la dì, dice, ratico uno, ratico uno, ratico uno, ratico uno, ratico uno, ratico uno, ratico, tor, tutto questo è il sforzo della corsa, insomma, traizio, perfetto, poi questo, qui era il nostro allenatore, che l'indicavo con Filippi Capifieri, che gli toglieva il pedonino, a basciare la spiaggia, figurate che quando lui chieseva di andare al campo, a fare poche allenamenti, Filippi, metteva subito il veto, perché non doveva andare al campo, capito? Perché l'ambinatore è una qualità, e mi posso assicurare, a un certo punto disse a me, non se tu mi fai una mano, a me fa venire, stavo senza puttiere, rata la fa, allora io torna faremo, Monsignor Pintonella, io ero uscito dal seminario, Monsignor Pintonella, era il capo cappellano militare, di Tua Sergi Italiana, gli telefonai, voi non ci crederete, dopo 24 ore, mi fa andare avanti a ruggire, a Castello dell'Ovo, dalla Sardegna, però quando poi, io insiste con lui, perché, riducessi un po' con la ferma, e dice, figlio, non ti posso accontruttare, perché, questo non mi è consentito assolutamente, sarebbe un privilegio particolare, proprio, non posso, non posso fare niente, comunque, insomma, non arrivo a curtir, noi avremmo andato a fare la vischia, grazie a lui, vi dico, certi persone, come pure per esempio Claudio, voi ricordate Claudio, io ho trovato una testimonianza, naturalmente, non mi voglio attediare, ma tengo una testimonianza qua, di qualcuno che ha scritto su Claudio, andate a capo, e, il ricordo di Claudio, capi di Fierro, è sempre fortissimo, e mentre in evidenza, come questo giovane, era di una bontà straordinaria, eppure era tenuto a bada da tutti, perché era il chino che sembriacava, era il chino che si drogava, e si drogava, si ubriacava, eccetera, eccetera, lo fuggivano quasi tutti, eppure, aveva grandissime esperienze, lui aveva davicato un po' girato per il mondo, eccetera, forse ritirato a Ischia, era tenuto sempre in disfaro, ma ogni cosa lì, mi ricordo, capitolo, in ospedale, quando è ricoverato anche il mio suoi, a me era stato detto, che il signore voleva così, che io davvero di fare la parola mia, a cuoresi, si pigliava in tre, dalla casa mia, e si riprendeva di venerdì, ma dopo un'ora di prova, avrebbe benedetto di nuovo la mia casa, oi venerdì, ormio, mamma, mia madre, venerdì, mio soggio, venerdì, mio zì, e ci stavano claudicoperati in ospedale, e facevano la spola, anche nella stanza, l'avevano riusa, da una stanza, a Rizzoli, in fondo, l'avrica, una cosa, eppure, un ricordo straordinario, io questo ricordo, se mi riesce, io si può fare pubblicare, perché veramente merita, di essere ricordato, perché, da questo punto di vista, veramente straordinario, è uno di quei giovani, che lascia il segno, perché, sinceramente, quando uno, diventava, si avvicinava a lui, aveva sempre, una parola, una parola particolare, da dirgli, poi nuova, diciamo, perché era sempre, frutto di esperienze, che aveva maturato, dal punto di vista personale, sapete, quando uno, veramente, ha molto sofferto, o anche, chi mi ripete, andando avanti, Vicenzini, Vicenzini, che stava, dal suo terrazzo, faceva quasi, da suggeritore, diceva, Peppetto, mi tacchino a sinistra, mi tacchino a destra, e la giura, dico, da dove, la spiaggia, poi a me, mi facevano un servizio, perché io stavo vestito, da seminarista, E' andato in seminario, per disperazione, i padri mi hanno detto, e, quando arriva a sottare ancora, voi non ci crederete, non erano capace, di fare un go, quando, eppertutto, ogni speranza, aveva un pallone, si fermava, andava a sottare, poi andava a fare, la spiaggia, invece, perché mi aveva, invece, la mattina, diceva, io ti ho visto, in mezzo a tutte, quelle ragazze, di scinde, sulla spiaggia, il signore, ti toglie la vocazione, ogni mattina, e sempre, a vostra, ritornei, insomma, me ne andai, poi, vedete capito, non parliamo più, non vi raccomando, tutte le vicissitudini, perché sarebbe troppo lungo, non vi voglio te liare, mi stavo dicendo che, voi pensate, è stata tanta, tanto importante, l'azione che ha fatto Terese, io ritorno, sempre, soprattutto, perché, ebbe, ebbe la capacità, anche rivolgendosi, vi ho detto a Gava, di far inserire, Ischia, i problemi dell'isola, nella programmazione, della cassa, per il mezzogiorno, e noi abbiamo, avuto provvidenze, veramente straordinarie, proprio quasi, grazie a questo, come pure, per esempio, io vi ho consultato, veramente con grande, conoscenza, Carmine Barile, qua, perché, anche se, tante calunnie, sotto i luoghi, sarebbe stato amore, che non sa, ci ha riuscito per il Sud America, a cercare le mose, si è fatto, lo sa che i soldi, io vi posso dire, soltanto questo, lo ricordo con simpatia, perché, veniva continuamente, si interessava un po' per dire, delle situazioni, a Ischia, delle vedo, eccetera, eccetera, aveva saputo che mia madre, era vede, un buon stasso, io di San Pietro, riuscì a inserirvi in maternità, come cuoca, e poi, anche come economa, la mamma di Fabio, riti il mondo come piccolo, soltanto che la prima giornata, entrante in maternità, mia madre, che fa sbagliporti, invece di entrare nella cucina, va da stanza a fianco, dove c'era, una ragazza di 22 anni, di procida, morta, e sarebbe, la prima moglie, di zianto, Antonino, che teneva solitaria, a Campagnano, per i custodi, per il ristorante solitario, la prima moglie, 22 anni, era procidante, al primo parto, moro stavo a io, moro stavo, c'era gaffo, insomma, non ne parlavamo proprio, vi dico, tragedie veramente terribili, e io vi dico, mia madre, paroni, ci fa, mio marito morto, e così, e insomma, lasciamolo a spazio, fu un periodo veramente terribile, da questo punto di vista, che ha lasciato, ha lasciato tracci, in questo senso, allora, dicevo, tutto a Basciano, ci forgeva tutto quanto là, c'era, c'era che faceva, a Rattano, no? C'era, 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 una vicenda, c'era, c'era, ma voi venite, avete visto, il maggio di Ischia, Piazza Croce, con la testa di Mussolini su, ma la teniamo pure su, per quanto, grazie proprio al fatto, all'incremento che Telesa aveva dato, a tutta la vicenda, vedete? La stessa testa stava disegnata, al di sopra, Rubardiaz, io l'ho pubblicata, un libro, notturno però, quello era un notturno, poi è stato depennato, di qua e di là, e qui a noi, vedete? I colli fatali di Roma, eccolo qua, è un personaggio, come facciamo, per sempre, voi a dimenticare un personaggio, per sempre, che a me è come Culetta, Culetta era una cosa strepitosa, pensate che, a un certo punto, a me era lì, i risultati, quando ci mette, innanzitutto, teneva tutto, viene la senatrice Merlino, venate la senatrice Merlino, a Piazza Croce, dice, io sono venuto qua, a parlarvi, di un problema gravissimo, la prostituzione dilaga, e se dobbiamo decidere, insieme se ne case, che si attenevano, chiuso, aperto, ma Culetta, sono due spancato, che è il primo in casa, di scarpe, ma da freddo, qua già sapevamo, mettere pure una aperta, ma così c'è roba, non ci crederebbe, l'altro consiglio, di andare da Mussolini, con altre donne, sono Mussolini, io sono, i primi 100 milenzi, eccellenti, eccellenti, io vengo a presentare, la situazione, di mio marito, il quale, è stato disoccupato, era la mattina, la sera, voi si ubrissero, sta come un cane morto, che va a pulire, poi io so che voi, avete la forza, l'energia, e voi, il Ducca, il Ducca, ma è tutto da un ingegnere, i cani morto, datemi da fare, perché mio marito, deve lavorare, Mussolini, prendi il telefono, la situazione, che presenta la signora, va subito risolto, datela a voi, voi, chi torna a Isco, il marito, fui a sondare, la vita, a mia supermercato, eh, batteria, a ricerche, a mia supermercato, venite a casa, per coca, guardate come sono tosta, è sindacato, è sindacato, è sindacato, che ti fai, e guardate, voi non mi dicono, voi mi dicono, il Bangalotto, ma io non posso mai dimenticare, il Bangalotto, a Baccia, la spianza, la scena serie, è corretto che c'è, se tratta di una cosa, che non ha donato i rossi, ma rossi non è, ha donato che ne è, ha detto pure, non sono lì, state massi di come questo, e vi dico, i personaggi, veramente, per me, mi dimenticavo, e quando è andato a Ponte, ci hanno detto, ma come la tua cugina, non usano, la cugina si gira, come sta, mi fa piacere, ti avrei, cent'anni saluto, cucina, e treva, 29 anni, si gira la cugina, ma chi è sta zocca, sta zocca, in un viaggio, perché mi fa cambiare, soltanto Natale, i personaggi, per me, veramente, strepitù, uno dopo l'altro, queste erano le signorine, del bambolotto, come chiamavano, queste caglie, e, immagini scritti, perché mi ricordo sempre, e mi ha cantato, l'eco di questo, che era l'appello, il gioco, poi stavano russa nella cooperativa vicina, che diceva, non so che i figli mi sono brutti, ma te l'ho un bacconario, e te li fa bene, e poi, si arrangiate conmico, perché gli altri, gli altri, gli altri, gli altri, mi hanno sentito, con le mie ore, poi stavano il po' che c'è un altro, e stavano, Paschalini, e il chielo, e gli frutero, e diceva, Paschalini, e il chielo, stava a fare con un'anella, non brinca, burdem, insomma, la cosa, dico, tutto, ma vi rendete con tutta la vita del burgo, si ritorgeva tutto quanto, tutto quanto, là intorno, e ognuno, l'anno dopo non ci si risentiva, anche o scherzo, l'anno domenica, la burpalezza, a un certo punto, si mette a fare, la pescema, gira il tavolone, bacia la maria, ha cominciato a dire, gira il tavolone, sta fando un cazzo, e dire il burpalezza, un calcione, un calcione terribile, maria proprio dietro, la faccetta, proprio stai male, chiede che fa, va a bacia la lì, le vani va, no, la ducola, si ritorgeva, mi chiamano il burgo, con tutti i barbi, poveri che i fai digni, una continuazione, perché i tempi, tutti i strofetti, io tra tutti i tempi, pure dell'epoca, siano i chiesti che scrivono, io poi avevo incominciato, mi dico, tutto questo intrecciavo, anche con la mia vita, ordinaria, dice, grazie al commentatore, che aveva messo a me in seminario, mia madre, aveva ottenuto il posto di curgo, e era stato messo in seminario, grazie al contributo, dell'Ode, dei gerofani di guerra, e c'era il commentatore, una itana che veniva sempre, e a Ischia, che aveva, si adoperava molto per le vedo, non soltanto, e anche per, come si chiamava, la famiglia, del maestro Sè, che ha aiutato, in una maniera straordinaria, chi sta ogni tanto, a dormire a casa notta, allora che la fratella, mia sorella, pace all'anima sua, che faceva, se un commentatore, si corregava, goppa in un divano, rimbaltabile, che gli aveva dato, vado un calcio, mi ha avuto tanto, buh 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 buh, guarda un poco per le torse, un'asso, boom, contro l'armaria, al palco di quando si era salto, con una salta mazza, un'altra sera, di un problema, la mia sorella, gli studenti, vedendo, venendo l'ant sostanza, i geni, lui bussava vicino alla porta, e la mia sorella, diceva lì, non c'è nessuno, uomo, mi ha trovato, ma tu, io sento le voci, non mi ha spaniato, sono le voci, che viene da un'altra, eppure mi dico di una grandissima umanità, per esempio, Pierino d'angeli, tutti quelli che ci siamo potuti giocare. Lui sapete che faceva? Per dirvi come si amava il bene comune, a prescindere da ogni discorso. Il primo che faceva non era il presidente degli orferi, il presidente degli orferi era il notariano. Lui, pure lui, dava una mano al notariano, girava per le case, interessava dei problemi delle persone e suggeriva il modo come fare, per esempio per ottenere un sussidio dal comandatore laudiero Rashman. Un sussidio in casa, un sussidio in latino e poi non mi dico che abbiamo più bello comitato, c'è la sogna per esempio, dice che era riuscito finalmente a convincere la moglie, la moglie, mio super, però la moglie, a stare un poco con lui all'improvviso. Ah, la moglie sul più bello dice, dice si, vieni che è stato tutto, si andava a portare a vento, a vento, prima che era la luce, ha buttato la burretta, la luce, dicendo che era impossibile, che era anche lui, pure chi non contribuisce. Voi sapete che facevano sempre? Comprava un pesce e gli schiavoni, poi un raugliava da una carta gialla e lo mandavano, lo mandavano a sapicchia, scrivendo alla favore, questo pesce lo fa in bracchetta. Tutti i signori che si appoggiavano dopo un vangolo là, così con i sedi, abbiamo un garbolo, un'ultima piazza che diceva che era il specialista di messioni di profondità. Dice, che ti andai ci? Ti andai aperto. Dice, non stai venire, ci approfitto dell'ultima parola. Poi ci contava uno, poi ci diceva, la parola dice, la prima volta stanno a dire, tu metti la mandata, ciao. Il padre era ben ceissimo, Giovanni Giuseppe. Non so se avete saputo, Giovanni Giuseppe, il padre, Luca, tutta la gente che andava a San Michele, ogni giorno che passava, uno sia e uno no, voleva un spaghetto a fissa, un po' i figli per l'armi. Io era lui che appena salta, c'era come i figli mi avevano un gatto, e poi a un certo punto, a Luca, per sempre, si voleva, e spugnava un stocco in questa cantina, Luca, gli dai la satella, uh! Cioè, la satella è rubina, rubina, è novella, insieme a spugnava un stocco in questa cantina, per l'altro stocco, facciamo un comunista che fa, un padre che scolti, che era il medico condotto, va là, questo stocco ha fissa, puzza. Una volta, una volta, una volta, una volta, si bascava, andava, e già inizia, e sto parlando di... POM! E non vi dico, sicuramente, potremmo scappare un po' il ragazzo, tutto preoccupato, non trovavano più, qui stavano l'angolo, poi si giusto subito, almeno si diceva, un padre, che era un ruino, va là, mi diceva, guarda, stiamo facendo, stiamo volendo un panorino, la creatura, la nipatina, vieni di crack, hanno inventato un sapone, così profumata, che stucavo, che tu mi dico, che stucavo, un metto in bacio, immediatamente a vendiang, e guarda, capo, come è provato! come è il suo, è il suo, che non è il suo, è il suo, è il suo, è il suo, ma è il suo, una conglietta! Un pochino! E la sorella, è il suo, era innamorata Toro, il cuore, è passato nua, Toro e lo trova nella gaya, ma poi il mondo è così piccolo che manca a fare la posta poi la nipote è andata via ma chi è giusto qui? eh giusto qui ma amica è una cosa io ho vissuto vicino veramente talmente poi la coppa la chiamava quando arrivava il schiafondo non so se qualcuno di voi ha avuto modo di conoscere se mettevano un petto al centro non lo rispondono se non lo faceva rugito anche sotto un'attione per quanto tanto non mi torna a stare è veramente straordinario ridotta le gaccarughe? a maneguare l'americano faceva fittea i furastieri ma chi stava? sull'attivato le carrozzero non è numerata quella là ma ci stanno 300 guarda qua Filippo, Nannino, Rusanella, Pasqua e Necchi, Luigi Gello. Luigi Gello, vanno fuori a stia e dice «Signora, mi potrebbe dare un poco di prezzemolo?» Ma Luigi Gello dice «Non ne ho». «Ma come lì sta all'aiaccia?» «Quella è la pretosina!» «Datevi un poco di seda!» «Ma come non ne ha?» «Signor, io lo vedo!» «Anche la testa è abbastanza grande!» «Ma quella è la laccia!» «Ma a me poco a poco vuol dire che si scorda?» «Un dottore d'Arca senza offesa, va a visitare!» «Va a visitare!» «A mamma mia e i pepini cervelli!» «80 anni!» Lamentava dolore e affetto. Lui entra, la visita e dice «indubbiamente, questo è un ingorgo di là!» «Ma non è la faccia!» «Sì, vedete, dottore di Costanza, va a saltare coppia e vi girava coppa alla panchina!» «A un certo punto...» «No perché è preoccupato dall'incidente che ha avuto, come si chiama?» «Un canchiere, un parente...» «Ah, d'Arricchiello!» «Ah, d'Arricchiello!» «D'Arricchiello!» «D'Arricchiello!» «Ciamate un medico!» «Ciamate un medico!» «Ciamate un cuore carissimo!» Ciao Buonasera Ugo Borsone Voi pensate era consideravamo una abbonata così, eppure era di una umanità gli ammalavate un primo che arrivava venuto venevamo la insieme a facciare una canzone insieme facevamo la batteria la mattina abbiamo fatto la canzone e tutti ci hanno buttato tutti entusiasti stanno solo per tutti tutto fuori tutto fuori lì c'è stato uno a c e gli diceva guarda tu la spita è andata stai nel piatto la melodia e batteria tutta una pressa una continuazione che facevamo per esempio io volessero venire i pupugli un po' di ruotare poi pensavamo e non si è decisivo in un saccio quando avevamo visto che era tutto pronto per fare la bistecca un po' di ruotare ma la cosa più simpatica fu quando vendita mi diceva non sei tu mi aiutato e mi diceva un concorso mia moglie ha detto cazzi faccio un concorso e mi diceva eeeh eeeh ma secondo te che tempo è pronto esce il valore del frangobor che ti vuole la posta scrivelo e scrivevi tutto vado alla sua porta e mi diceva un concorso e mi diceva tutto incredibile poi simpaticissimo mi diceva ma non lo facciamo con i privatisti e si affronta un borsò e affronta un caglio scrivelo eravamo stati tutti tre anni un giornalista amico avevamo fatto due anni scennuc il padre mi spettava spettava armato e appena scennuc pu pu guarda ci rischiaffo in faccia che vergogno tutti i tre hai fatto mettere la faccia e la polva la famiglia borsò non merito scennuc ma io ho preso anche 4 si scendiamo ma su quella come si mi diceva si 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 il padre, se voi ci pare che mi bagnasse a forzare la mia madre, dice il referendo, bisogna scendere le campane dal bambino, è capo. Mi chiedeva aspettate, fatemi spartare, vedi il grano e poi scendiamo le campane, tiravano giù le campane, ci saranno dopo cinque minuti, ma mi raccomando, ora ci sono le campane da portare giù le dame, ma non c'è il punto, ma no no, non c'è selvagglie, non c'è quello che ВON На selves. Qui но è stato con i G hacemos la faccia regola, è che, come giù? Possessi. Niente, non voglio soltare. Dip thoraccio? Conserva? Oia no, sovra вроде che. Ma è sempre capace. Dicevo le ragazze per hanno师arci sete aしゃlu, è eccellente, gli presenti il sindaco, e poi sì, ma quando Dio sta in diocese, diventiamo un sindaco, è già staccato. Comunque, questo è un po' che ho fatto, e abbastanza là che succederà. Per esempio, la zia Pietra, ci viene la città che recitava un Reve Meterno, che era veramente straordinario, Reve Meterno, Loro Sdoio, Sperpetuo, Spartei, Scantifa, Scantifa, Sperp! 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 stanno cominciando qua, ma non stanno, sei già due in giù, non ne è giù, chi sono stati? Dite, ah, allora lui, sono stati in buono, e dai lo dico, con sacramento ci sono posti con Pallantà, una cosa treventa, una cosa proprio treventa, a parte là succedeva di tutto, proprio perciò ho detto che la vita era complicata, sapete che con il Fifi era veramente comune? Noi abbiamo il Fifi, sì, c'è una differenza tra bubù e bbù, a Isca c'è la bubù, è, lui l'ha, non sto dicendo che si è accoppiata straordinaria, voi non ti ha fatto rubare la campagna, quando io sono stati un po' niente da lui, che è rimasto cinque, sapete, sono stati frusti, eh, Giorgio, De Angelis, una cosa treventa, se ne soffri fino all'ultimo il più istante di vita, perché è una cosa proprio che a un certo punto... Paraglielo, 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 noi lo prendevamo in giro, invece abbiamo trovato il decreto che dava la possibilità al Fifi di essere Conte e di trasmettere il titolo Francesco Busardeggi, diceva, e noi ci dicevano che la differenza tra Isca e Parigi, a Isca c'erano come bubù, e a Parigi è chiamato a Brigitte Bardun, e a Parigi! Bubù! Chi dà era vede? Poi Friglia era fischio eıyı e Maria... faceva io fatemi fatemi un nonno mio stava andando a Munez fatemi fatemi spazzesco e tu tu li si metti con me ci sta proprio con fronte io sono nato andando a Munez il suo il suo diritto no ma ci sta lì ci sta meglio da te nell'immagine sto dicendo è che tutta l'immagine ci sta no ci sta lì vi dico un altro particolare che mi ha raccontato il figlio io non ne sapevo il figlio di Vincenzo Savarese che è morto il fratello di Totoro Savarese dice che merito praticamente la banda di Ischia è stata è stato proprio di Rizzone il quale quando eravamo serenito un corte una mattina si è arrangiato perché ha visto venire un petracchio che veniva a fare la banda a suonare fuori Portosal cioè non è giusto che Ischia non deve avere una sua banda è di ordine di creare la banda perciò vuoi dire Rizzone è stato un bel merito perché ha fatto all'acca meno e cassa tutta la banda stavano tutti stavano tutti stavano tutti quanti questo è il mio frate mio cognato la moglie di Teletis stavano tutti quanti Giuseppe Mormiglio Giuseppe Mormiglio stavano tutti quanti hai visto ti sei visto là che Giuseppe sempre un cucchino violino è giusto è giusto che ti hai un ragazzo da quel signore che ti hai non lo so chi è che andro io non mi hai l'unico che era il vitalista non proprio cosa la parte poi gli schiapponi chiamano Antonio Uturzu, lo sapete? Antonio Uturzu è uno specialista nel coniugare il verbo ecco, come facevo il verbo ecco? piccane, 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 piccane lo chiamavano come specialista nel coniugare il verbo ecco e tutte queste persone hanno trovato tutto quanto, brigare, carestrine per esempio la mattina si presenta per carestrine e veniva in scena bisognava fare il Vesuvio eccetera eccetera vanno i pazzelli che erano presenti i figliai gli dicono datemi un pennellino proprio di questo per te, per te, per te un pennellino chi deve dire sempre un bel rosso? vai tu guarda che ne stia un rosso per te vai, vieni a voi aiutare un rosiccio rosiccio di neve vittura per te, te ne scomai dici di quale è un rosso? no, voglio prendere i tuoi altri canestri i tuoi altri primi televisori guarda, guardate qui la gente aveva usato il quattro anni non si aveva perso il televisore che funzionava allora si vedeva sempre i pupazzi la ditta io sono con i tuoi altri ma c'è c'è mai i tuoi altri e dove arriva la cosa? ma come c'è? tutta la gente l'ha ditta quasi ti sai che c'è tanto ma non capisco e guarda che il figlio che c'è quello è un impatto elettronico qua qua salto facendo un rischio ma chi vuoi fare questo? chi vuoi fare questo? chi vuoi fare questo? mi vuoi fare questo? mi vuoi fare questo? il padre Domenica è una porbaese che l'ho detto io e il mio compagno di delinquenza facciamo quello di Andomene pure qua sono tornato dalla luna continuate a dire che i figli erano fissati tutti uscirono che non erano fissati e dicevi là appena arrivano da un colpo fuori! fino alla morte hai detto sai fa stessa sto il figlio che era una cosa 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 quella cosa che era una cosa tutta la viste tra chiة strane cammini chi invece si stavano adequately è strappo tutti che ce le hanno fatto stiamo parlando io quando sono asciuto qua ci ho domandato chi erano, che la gente si costumava, che mi hanno detto che erano i pubi, erano i vanni chi, erano i vanni chi, erano i vanni chi, e che non so, erano sorpresi che non ci riuscivano ad andare a risposta, io me lo sono scritto perché, voi andate, data soldi a interesse, quando lo trascinarono, lo trascinarono il giudizio, ma come è, voi lo trascinarono il giudizio, ma come è, voi lo zero sempre vicino a ogni campione, mi sono sempre 10 mila, 10 mila e così, sempre lo zero, mi hanno detto, lo zero non serve a dire, c'è il giudice noi, io credo che erano stati alla mandata, questo zero non significava niente, un figlio rumiere, lo sapete, ho fatto un figlio rumiere, lì si era ferita una gamba, ogni mattina dove si andava a curare, io mi ero, gli diceva sempre, vieni rimasto, facciamo un'altra medicazione, non gli potevano niente, portava i fici, la bella mattina, il padre gestiva, un figlio, un dottore, il quale, quando è arrivato, gli torse la spina, naturalmente, quando viene il padre, diceva, papà, lo so, io non capisco, ma come hai fatto venire tanta giornata a quello là, diceva, c'è girovata la spina, c'è girovata la spina, non ti preoccupare, ma ho vissuto, potete, ma non lo capisco, ma non lo capisco, ma non lo capisco, stai accattando le coppie, non voglio vedere il campesco, questo signor di un appuntamento con una tedesca, allora, un'altra signora, un prezzo, mi ha detto, mi hanno detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi è dato, mi era detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, io altri avviti, e una mia moglie, il padre officio che è trovato, e una moglie segue dove un bar, Allora, questa tedesca che stava a un re per di Landa, ha chiamato una ricetta per cortesia, ha andato la segretaria nel bar e ha detto che stasera all'appuntamento con Giovanna non ci posso andare. Questa tedesca ha chiamato un bar e gli ha chiamato un bar e gli ha chiamato un bar. Stasera non puoi venire all'appuntamento dei rami che è. Io sono la cittadizia, però, Giovanna moro in mia casa. 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 E se ne voglio oggi, come facciamo anche il bar? Scendo la casa e facendo un bar. Quando un bar ritrovamo che andava in terra, io sono la cittadizia, la cittadizia. Giovanna si segue in parte a suo girato e diceva, a gente accosteata e desca, stasera non viva. E lavavano, no? E lavavano. Giovanna è andato allergico. Gli anni non sapevo. E lavavano. A gente accosteate e desca, stasera non viva. Giovanna era impressionante, Questo non è facile, no? Ah, la mia moglie è andata molto caluta. Hai t'accusiato adesso, che non vuoi. Allora gli altri giovani, volete fare... Uè! Faccio la cucina. Ma che so questo stroppo che stai a cucciare? Ti aspettavo di essere. Hai t'accusiato adesso. Stai a dire, non vuoi. Quindi poi mi sono tornato a Barzonetto, la signora doveva pagare il marito una bella cosa, una bella cambiata. Stai a dire, il giorno dopo, si affacciava a fare un barcone, mi arriva con il marito e mi diceva, ma perché non tu? Non ti preoccupare? Perché io si parla la moglie, si affacciava e dice, ma Gioia, questi miei casini, beh, vieni con il marito, mi rimane la mattina a cambiare una pote a papà. E si correga. Certo la moglie ha detto, ma quanto ferire gli avevi fatto? Non ti preoccupare, ma è questo che mi ha fatto! Un fatto simpatico, per esempio, dice qua, una rischia che gestivano i migliori e gli avvocati si fatteva un culapre. Io non so se vi ho raccontato mai che la rischia ponte, non so se sapete dove sta il crocifisso, c'era una volta c'era la pietra del debitore, una colonna muzza su cui doveva sedersi il debitore col sedere da fuori tutta la notte all'agugna. Tanto è bene che la rischia si fatteva un culapre. Praticamente, evidentemente, aveva avuto dene, ma così ciò. Poi ci stivano, lo studio, un amico caro, era un dottore Polvi, il dottore Polvi poi si è trasferito a panza. Allora, uno dice, Dottore, se venite, questo corale di indenditore guardava, Dottore, è pensare che, c'era il cervello, ma c'era la parete di segnale, pensare che lungo cammino devono fare le feci. Dottore, se venite dalla stanza accanto, vi faccio vedere il mio albero ginecologico. Dottore, dice Dottore, io tengo le vende, vanno intorsi. Chi l'altro dice, ma dove sei stato? Hai venuto appuntamente e venivo in studio stamattina. Perché sei venuto? Dottore, perché io sono dovuto andare dall'anologo. Dice, chi è questo? Dice, perché sono venuto dall'anologo? Dice, perché io mi hanno detto che ho in taglia, direi, troppo acidità. Io volevo dire, lei la vuole. Dice, sai, vieni oggi pomeriggio, su, ti aspetta, non ti preoccupare. Dottore, mi dispiace, posso venire. Perché? Perché noi dobbiamo tenere la pulenza, le forze settiche. le forze settiche. E io mi sono così, stavate, mi sono andata, mi sono andata, che volevo dire, sotto la stanza. Noi, da volta, non riuscivo a dare, per la regola che aveva la chiave e diceva, è meglio, vuole sapere che diavolo ci sta accadendo. Poi da volta, la processione, le merci avanti, come grazie, le merci avanti, ma anche chi è? si è andata, se vuoi venire, ho detto, le merci avanti, ma anche i ragazzi, alla fine, come si è andata. Ma, il prezzo è andata, ma non è un po' di più, ma non è un po' di più, ma non è un po' di più. La notte, la notte, la notte, la notte, la passata, mi sono andata, questo stato, figlio, e ci sono state, le cose, non possono morire, ci sono buttate. Vi posso assicurare che, ma poi, il cantore, capito, il cantore, con cui lo dicevi, voi non potete immaginare, come per esempio, mettete il seggio, sapete come noi? La romenica va là, da tutti gli uomini, l'ordine, di mettersi a destra, andate a chiesa, e le donne a sinistra, come tutti seggi spurnate. Poi vanno all'altare, e disse, cari miei, bisogna fare dei lavori, urgenati, la solita storia, l'uomo del re, ma ora del re, dice, ricordate quello che vuoi fare, rite, che ha una cosa veramente drammatica, voi ricordate bene, che le prime cose, che bisogna aggiustare, sono, quelle cose rotte, che tengono sotto, le vostre donne, perché si riferiva alle sedi, il cantone, capito, si riferiva alle sedi, che perché c'era tre cose, con un regolamo, che in mezzo reti, tanti e, che in regolamo, vittra le altre grose, quando e'? Duocento mila lingua. Ficceteq decenze e dicendo ce chef, sono. fatti sicurati a cercare loro, erano un invecchietti luogo, adesso, e eccolo, un a più heaven, e chi momento? eppure io ho il dovere di dire guardate, nonostante questo aveva delle frasi bellissime aveva delle frasi di saggezza straordinaria io non l'ho nato, sto guaiato non sa che sofferenza, non sa che malattie non si capisce niente, dà a casa mia e lui sistematicamente diceva figlio mio, ricordatele che quando la vita soffre la nuova venga riflettete con questo fatto cioè tu la pote e così via il dolore serve a te per potarti e dopo diventi migliore guardate la sentire, sono in bella chiesa ehi, ma lo sto dicendo il signor Giovanni è Sant'Antù Sant'Antù è un altro di voi e quando ricevi il guaglione, non andate nelle zone al di sopra della parrocchia perché vi posso assicurare sono pieno di filossera è il bestato è il bestato di filossera qual era il ragazzo Andrini? mi vedrei qual era non è il don Leonardo mi ho detto chi sta il don Leonardo invece vi posso assicurare è il quale dormiva in coppa in coppa come siamo? sulla Ischia Ponte dormiva in coppa in coppa in coppa in coppa è così è così è così è così breve breve perché a mangiare c'è una signora con un figlio che batte avete battezzato che sei battezzato? no, non ho battezzato e stai morire nella festa di tua sorella che è l'assessore pagano da Napoli mi ha appiccicato tutto quanto a Napoli mi ha fatto scala un palazzo lontra non potete immaginare stavo andando a stanza là il benedetto croce diviso tra tre istituti a una parte della seve la nata la notte rubava il furono una bella materia disse ai miei colleghi a me porticchiamo un proprietore mascol e allora soltanto il proprietore si è benigno di convocare tutto quanto in proprietorato e darci delle direttive lui diceva mi chiede a tutti ma perché hai la responsabilità no, no ne tengono un istituto in quella maniera già abbia l'anno scolastico questo mi chiede a responsabilità lui dice insomma non di sé non è vero senza la parola e allora erano gli anni in cui gli facevano l'assessore stavano in amministrazione facevano l'accomagnolo della squadra e con noi c'era Rivellino che voi sapete ha giocato con Napoli e c'era tra gli altri tra i giocatori stavano Guglielmo ma voi non potete immaginare che Guglielmo può rocori chi è voi pensate che no per niente ma ma di una spontaneità voi pensate il primo giorno mi fa i pipi puro anche puca per un puro qui Guglielmo mi scelta la mia suga per fa pipipi ti lascia più caccia e io me la dò d'accella l'arbitro questo mi fa ostruzionismo caccia ma che lei diceva l'ignoranza mi diceva che come si chiama quel monumento Guglielmo come si chiama quel monumento tra i segno di un portinato il maschio angelino mistero mi diceva va un camerino a tavola scappato volete una macedonia grazie non fu poi a un certo punto mi diceva ti raccomando appena arrivi a Pozzurra fammi una telefonata non rispiti la telefonata come si chiama mi diceva Rosè 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 diceva non stai sto un corino dall'elenco è uno spasso continuo una continuazione proprio perché fatto proprio con la massima spontaneità con la massima capito io a un certo punto me ne sono riscritte tante e tante e tante che poi ogni tanto qualcuno si dimentica ma tante poi io ho chiesto che ero brutto e ho fatto noi ci divertivamo con tanta gente ma poi lei diceva non c'era giù un tema lui diceva per esempio una minamonte che è una scabbia pronta faccio un portafoglio scarrosce pure un figlio chi va a fare la russa farà con la nera si va a destra sopra presto e c'è pazza faccio una lì richiede si fa con la nera ma anche mi dà la carta nera che andrà a mattina ma si con l'interesse manda tutti dei libri dei libri dei libri Fabio vai tirare un po' le foto le foto le foto le foto le foto grazie al nostro socio L'unzio che è sempre florifico nel raccontarci speriamo che la prossima volta non lo posso fare la prossima volta non mi chiedere di raccontare dal 70 all'80 Gemi ma Gemi ma quando è stato atterrato? quando è stato atterrato? volevo semplicemente sfruttare con la sua memoria per raccontare altri aneddoti e semmai soffermandoci di più sui personaggi e avere una partecipazione ma è un magliettino dove vanno i sfritti i sfritti i sfritti ma semmi te lo dovremmo mettere perché fra poco a me ha magnato insomma voglio dire voglio dire che semmi ecco soltanto i personaggi che a quell'epoca venivano gli anni 50 70 a Ischia voi mi mettete le mani e capisci ma è possibile pensate adesso oggi per esempio che fa vicedomine per esempio vicedomine si porta il fiore degli attori eccetera eccetera ma è un fatto limitato all'alberghe reggine Isabella ai delfini e tutto finisce lì che lascia al paese fatemi sentire che si fanno poco come si chiama l'altro che fa il film festival detto tra noi ma sono cambiati i tempi sono cambiati i tempi ma a un certo punto io voglio sapere lei ecco qui il Capri il caro vice d'opera si chiude a fare Natale a Capri guardate che è successo con tutti gli attori a Capri fate il confronto io ci sbatto perché ho fatto ho fatto un'estate io e mia moglie siamo andati a Capri e vi posso assicurare stavamo su due locali dotturni non volava una mosca da una capa non volava una mosca a Ischia e Cà non si capisce niente è un inferno proprio totale la notte è diventato va bene grazie al professor Luzio Albarello parla mentre guardiamo le fotografie questa è una raccolta bene noi stiamo facendo adesso l'archivio fotografico che Fabio sta scannerizzando tutte le immagini da tutta la maggior parte venite in camera scusatevi un momento Ischia io ho accettato il po' mi scontate a Levi e a quello che ha fatto per Ischia documentari cinematografici edizione del premio Isola Ischia dal 34 al 72 tre festival della canzone marinale era presente dalla televisione poi la partecipazione ai giochi senza frontiere celebrazione i benesiani nel 56 festa annuale a mare agli scogli di Sant'Anna la volta ci partecipiamo ci sono pure un prego poi un po' tutto l'episodio festa della vendemmia balli di apertura della stagione turistica concerti di musica da camera e sinfonica escursioni gastronomiche mostra dei vini isolani sfilate di moto Madame Antonio vi ricordate? un corriso sotto là poi festival della chitarra serate forcloristiche musicali tornei sportivi legate accordi con i più importanti istituti e complessi teatrali convegni e assemblee nazionali e internazionali incontri con agenti inviati fate il confronto con quello che succede oggi i civili oggi praticamente ci stanno sordi ma voi vi rendete conti che questa è tutta un'attività che veramente incide a livello turista perché porti gente a partire qua un po' serena creare lavoro perché stanno giù poi non vi dico anche dal punto di vista culturale per esempio tutti gli obuscoli che venivano pubblicati a cura del Levi per esempio i quaderni dell'isola verde il centenario del porto di Minervini a antrezzata di Giacomo Deuringer così via Deuring sapere quante persone a Ischia di Posse io vorrei sapere perché non ho detto questa è documentazione di prima mano come si fa per esempio noi abbiamo fatto il terzo volume del centro studi noi dai che sto dicendo allora speriamo che Nunzio raccolga ancora di più notizie per una prossima conferenza nel frattempo Fabio dicevo sta scandalizzando un po' tutte le foto cercheremo di fare un archivio cercheremo di fare un archivio tematico in modo che tutti i soci possano poi vedere perché abbiamo il computer un'idea sarebbe una cosa che già facemmo una ventina d'anni fa su Castella Ragolese e che fu preparato da Ercole Camurale che poi non andò avanti ed era Saluti da Ischia ed era una mostra per cartoline e poi si doveva fare una pubblicazione che poi non andò avanti una cosa che noi potremmo invece cercare di fare con l'archivio di Diluzio e altri archivi che sono eschi quindi proprio fare un percorso storico attraverso le cartoline più che le fotografie e ce ne sono tante bellissime anche qualcuna con scritte particolari e cercare di non fare un volume ma quanto meno preparare un cd e poi su questo preparare anche eventualmente una conferenza e raccontare una presentazione quindi mano a mano questo archivio lo andiamo sempre più a incrementare le prossime attività dell'associazione a breve apriamo l'assemblea per quanto riguarda il bilancio e le manifestazioni che faremo nel corso del 2013 stiamo preparando un programma ci saranno sicuramente delle gite probabilmente a Napoli diciamo giornaliere perché diciamo il tempo è sempre tiranno quando si va per il viaggio e poi cercheremo di incrementare quello che è la conoscenza del computer quest'anno abbiamo avuto il primo corso è stato soddisfacente metteremo qui una posizione fissa in cui tutti i soci possono accedere per esercitarsi nel computer aspettiamo il ritorno poi di Massimiliano che adesso si imparcherà quindi dovrà andare a lavorare visto che si è fatto tre mesi di vacanza quindi dopo la prossima però si vede si vede è sciumativo al ritorno quando sarà disponibile la prossima io organizzeremo il secondo corso di approccio al computer speriamo di avere anche internet ci sono delle difficoltà tecniche però credo che a breve risolveremo e che cosa vi devo dire gli auguri di buon anno ce le siamo fatte faremo anche altre iniziative culturali con sfruttante le conoscenze degli altri soci comunque le prospettive non sono tranquille sono inquietanti anzi ma dice un amico quando vai stasera la faccio ricorda tutti gli anziani che ora ho peggio invenzione non ci vuoi più la terza età ci vuoi la reincarnazione compito bravo russi bravo bravo sentite che ogni per ogni anno che passa aumenta di tre mesi non è pensionato è levate qualcuno si è tutto quanto pensionato il problema è allora mi hanno già messo in guardia che in mezzo a voi ci sono parecchie bizzoccole con la corrisse il padre giocotto corrono con la banca assalgo la chiesa purta mi hanno già messo in guardia pensate che l'onorevole è un infarto in una città come si chiamava in un lato e per infarti in tribunale e lì mi ha detto la causa lo condannarono una cosa tremenda e poi bellissimo una mattina a San Vieto per esempio il primo dell'anno io convocavo tutti i mani a mettere una sigaretta e non farla fare quattro non mi ricordo che si fosse nuovo che aveva fatti di sigaretta sembra lei che ti dava i tabaccar le corde cavate faceva in seconda mano i sigaretta in seconda mano ci faceva dei scherzi atroci Giorgio una cosa bella allora togliamosi a a a a a a a a Grazie a tutti 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 Grazie a tutti